Eccoci qua, missione al Conad, speriamo che non ci facciano anche da qua, dai vediamo di trovare tante cose bio, voglio trovare anche il Marco Sarchio, Marco e Giuseppe, Marco Sarchio biologico e qualcosa di cosmetici, andiamo! Missione segreta, hanno fatti piccolina, nasconditi, ma siamo tutti e già a righe, sembriamo già due carcerate, già ci hanno arrestato al Conad. Andrei vediamo questi come sono, vediamo come sono i cereali, c'è lo zucchero, non li prendiamo allora, io li voglio naturali, non ci sono, oh no quanti cereali, bellissimi. Questi qua per esempio hanno un bel profilo, guarda, perché anche se c'è lo zucchero però sta un po' dopo, quindi ci sono tanti cereali po' integrali, mix di farina di riso integrale, quindi sono veramente buoni. Tanto ci sono più grazie, questo non è come profilo nutrizionale. Anche nella bevanda Conad, base di soia, c'è lo zucchero, quindi io non la prendo, come sapete preferisco sempre senza, però qua ci sono le mammate pisane, l'angeli tagliaduro, sono più depurativa, è un po' digestivo e ottimo per sgoncare la pancia. Questo c'è lo zucchero, non è come quello al cocco, quello al cocco è migliore, dai, quindi questo non va bene, dico stiamo provando parecchie cose. Succo di alamass, ottimo perché senza zucchero, puro, buonissimo, Conad. I sevini, il bio, questi sono buoni, sono insalate. Allora, quelle troppo buone sono queste, le more di gelso, queste sono tutte quante, si devono controllare per vedere se non c'è lo zucchero. Eh? Bacche di goji, dolce, le bacche di goji, buonissime. Ah, ma c'è anche questo qua, non berasco. Dio. Vediamo come sono le fette biscottate integrali Conad, negli ingredienti, ho letto c'è l'olio di palma, quindi non vanno bene, non ce ne frega nulla, le possiamo. Ah, però qua ci sono le nostre amate peor di frutta, di rigoni, che sono pure di frutta, ma me la teso la frutta, io prendo quella di albicocca. Non c'è, c'è pesca. Oh Dio, ebbè prendiamo pespa, pesca è buona. Ah, eppure fragola. No, pespa, pesca è tipo albicocca, è molto, io l'adoro. Buonissima. Guarda, ne hanno tutti i fiocchi di avenente integrali, che faccio il porridge, li metto nel latte, nella colazione. Buonissimi, sono anche di albicocca biologica. Io le compro. Quanto costano? 2,55 euro, non è tanto. Com'è? Sì, dai, va bene. Sono bellini, guarda. Ma sta l'olio di palma dappertutto, non è molto bene. Ho trovato questo, un po' di mais, olio di girassone, nocciole, è buono questo qua. Però c'è pure l'olio di palma. Allora no. C'è buona. Ah, abbiamo trovato una cosa buona. Amarene, ma è mellata al marchio Sacco. Buona poi di amarene. L'avrò trovato tutto questo reparto Sacco, biologico, fantastico. Ah, mi sono soffiato, e biscotti, di festegrale, ottima sta marca. Prendiamo qualcosa, anche se ho controllato queste qua, sono esaltatori di sapidità, quindi io non le prendo assolutamente. Ho trovato questi snack, se sono troppo troppo carini, col cocco, li prendiamo? Sì, li voglio. Poi cosa mai li proviamo a fare in casa? Secondo me sono semplici da fare. Quante belle cose, controlliamo un po' questi biscotti. Qua non c'è l'olio di palma, guarda, sono troppo carini, cioccolosi, e tu che hai preso? Riso integrale e lenticchie. La zitta, buona, brava. C'è l'olio di palma, al camut ed è anche biologico. Yuppi yuppi yuppi. Hai trovato anche i grissini, sempre Conad biologico. Ah, bellissimo, bravo Conad, senza olio di palma. Yuppi yuppi. Gallette, belline, biologiche, se ha diriso quale prendiamo? Di farro o di riso? No. Ho trovato il tofu, naturale, di questa marca, compagnia italiana, alimenti biologici, veramente ottima. Quali fa? Qua vuole. Vediamo come sono, conan. Che ne sono? C'è una faccia, non sono voi Non ti metti cuore Non ti metti cuore Bag di tutti i tipi, conservanti che rilasciano la farmacia e il vino ragazzi Bocciati Arrestano, bocciati Ho trovato tante cose piene di schifezze Questo qua, c'è un sacco di PEG, PEG 200 Black L'unica cosa buona che ho trovato, eccolo qua, ho anche la saponetta Questo, è veramente oltro elasticizzante per le donne incinte ma non solo Contro le smagliature, provenzali, pieni Missione compiuta Non ci hanno cacciato e non ci hanno arrestato Evviva Siamo state molto discrete, siamo nascoste tra gli scappali Ormai abbiamo imparato, non ci facciamo fregare più Parliamo piano piano, infatti vi scusiamo se magari l'audio non era proprio dei migliori Però avete capito, ne va proprio della nostra... Sì, ma poi abbiamo improvvisato, abbiamo visto il Conad mentre passeggiavamo Sì, infatti, ho detto dai facciamolo sto video vlog, ormai mi piacciono tantissimo, mi raccomando Se vi è piaciuto questo video, fatecelo capire, mettete un bel pollice in su Ci fanno piacere i vostri pollici in su Sì, esatto, così capiamo che vi è piaciuto Diteci anche in quali altri suoi mercati volete mandarci Missione Inci Qua dietro stanno le nostre booster Sì, perché voi ce l'avete richiesto il Conad È vero, ci hanno chiesto loro, infatti abbiamo trovato qualcosina Dai, poi vi facciamo il video sul mio primo canale Con tutti i nostri acquisti video E vi mandiamo un bacio grande Ciao Ciao